calignaia primo agosto 2019 ci sono cinque cormorani che sono venuti a fare una visita a calignaia e sono stati lì a prendere il sole sullo scoglio per parecchio tempo poi c'era un sesto cormorano che sguazzava e pescava pesci a tutto spianto risacca oggi era particolarmente più lenta bisognava stare parecchio attenti poi man mano il mare si è andato calmando bella giornata di mare con acqua un po tergona a causa del dell'agitazione delle correnti perché il mare era leggermente increspato un saluto ciao